Sono stanco e i tarantini sono stanchi di sentire le favole, le chiacchiere che racconta il sindaco Rinaldo Melucci, che racconta chi ma ambiente AMIU compreso il presidente Mancarelli. Si sono tanto vantati di aver pulito, igienizzato il centro di Taranto, Via d'Aquino e Traverse. Bene, vi faccio vedere tratto per tratto a distanza di 3-4 giorni dall'annuncio come erano solo favole puttanate quelle che hanno raccontato, soltanto puttanate. Guardate qui, siamo in Via d'Aquino, angolo con Via de Cesare, guardate, questo si chiama Sivo, volgarmente parlando, e ci spostiamo. Qui stiamo, guardate ancora, proprio nel centro di Via d'Aquino, guardate il nero, questi mattoni dovrebbero essere, la pavimentazione dovrebbe essere pulita, stricata, ma che cazzo di manutenzione avete fatto? Che cazzo di pulizia avete fatto? Mancarelli, quale cazzo di pulizia? Guardate qui, che schifo, guardate, tutto nero, tutto nero, guardate, nero, nero. Qui non si pulisce da mesi, mesi, un'amministrazione assente che ha il barbaro coraggio pure di dire che ha pulito. Ma cosa avete pulito? Quali chiacchiere raccontate ai cittadini? Smettetela di prenderci per il culo. Queste sono le immagini che parlano chiaro. Guardate qui ancora, guardate il nero, 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 nero. E ci fermiamo. Ora vi faccio vedere un altro tratto, sempre del centro di Via d'Aquino. Mi sono spostato di appena un isolato e lo stesso porcile è presente qui in Via d'Aquino, praticamente ad angolo con Via a Clavio. Guardate, un nero paurusso proprio, qualcosa di pazzesco. Caro Mancarelli, presidente di Chima Ambiente Amiu, caro sindaco Melucci, Olio di gomito, olio di gomito, stricare, pulire. Guardate qua che schifo. E lo ripeto, avete avuto il barbaro coraggio di dire che avete pulito la pavimentazione di Via d'Aquino, del Borgo Umbertino. Se l'avete fatto, non metto in dubbio che l'abbiate fatto, ma i risultati sono praticamente inesistenti. Avreste fatto meglio a non farlo proprio, perché tanto valete. Avreste evitato di spendere risorse materiali, risorse umane e risorse finanziarie per far pulire. Perché se questi sono i risultati, che dire, andatevele da Taranto, ma proprio di notte ve ne dovete scappare. Perché create soltanto danni alla città. Non siete stati capaci, un'amministrazione che non è capace neanche di far pulire una pavimentazione e dice di averla pulita. Ecco, qui siamo in Via a Clavio. Ed eccoci da Via a Clavio, in quella che secondo me è la piazza più bella del Borgo, piazza immacolata, con le sue palme, con la sua fontana. Una piazza però oltraggiata, sfregiata, offesa da questa pavimentazione sporchissima. Ma qualcosa di vergognoso, significa che da mesi e mesi, per non dire da un anno almeno, non viene appunto ripulita. Guardate qui, il nero, qualcosa che si è proprio stratificato, che ha cambiato il colore bianco del mattone. E la cosa più raccapricciante è che ci troviamo dinnanzi ad un'attività commerciale, ad una nota pizzeria del Borgo. Pensate, qui ci sono i tavolini. Ecco quello che io dico, che l'amministrazione Melucci di fatto crea danni anche alle attività economiche per la sua incapacità di gestire, per la sua incapacità amministrativa. Perché se tu, amministrazione comunale, se tu, chima, ambiente amico, non fai pulire i mattoni, quali condizioni offri ai commercianti? I commercianti pagano l'occupazione di suolo pubblico, pagano che cosa? L'occupazione di un suolo che è una merda? Questa è la verità, perché questa è una merda? Guardate, ci sono i tavolini, c'è la merda. Guardate qui, ma ovunque, il nero ormai ha raggiunto, guardate qui vicino al cestino dei rifiuti, guardate, qualcosa di pazzesco. Un'amministrazione incapace, incapace. Stiamo parlando non di una zona periferica, ma del fiore, come dire, del Borgo. Piazza e Bacolata, con le attività commerciali. E voi mi venite a dire che avete, lo ripeto, lo ripeterò fino alla nausea, che avete pulito la pavimentazione di Via d'Aquino. Voi che avete il coraggio, voi dell'amministrazione, voi di chi ma ambiente amico, avete il coraggio anche di fare i post. E vi vantate, vi gloriate di aver ripulito la pavimentazione. Ma cosa avete fatto? Solo chiacchiere. Lo ripeto, smettetela con queste puttanate, andatevene a casa. Questo è il vostro livello. Questo esprimete amministrativamente. Tanto valete. Cosa devono pensare i turisti quando vengono a Taro? Che idea si devono fare? Una piazza meravigliosa e un'amministrazione fallimentare. Mi sono mosso di qualche metro, un'altra attività commerciale. Guardate i mattoni qui. Guardate il colore. Giallo, nero, non si capisce più. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Melucci, Mancarelli, questa è la vostra capacità. Io vi sputtano con tutte le puttanate che dite e scrivete nei post. Perché io non ho bisogno di altro se non delle immagini. I fatti parlano purtroppo in modo maledettamente chiaro. Grazie. Grazie.